Il mio intervento è legato al ruolo del tutor in azienda e alla nostra esperienza a livello di inclusione di personale disabile all'interno dei nostri team di lavoro. Noi come azienda abbiamo aderito all'attività del bando legata al percorso come disability manager a cui ho partecipato quindi io che lavoro nell'ufficio del personale ho un ruolo di tutor principale per tutti gli inserimenti ma penso che avere una rete di tutor interni quindi di colleghi che poi principalmente sono i manager delle persone che inseriamo ma anche i colleghi che poi li aiutano nel lavoro quotidiano sia il punto fondamentale per avere un contesto più positivo e più di supporto per l'inserimento di queste persone. Pazienza, flessibilità e capacità di gestire poi le situazioni che emergono e che magari non sono preventivate all'inizio sono poi altri elementi che secondo me, secondo i miei colleghi sono stati importanti nell'esperienza che abbiamo fatto fino ad ora.